La Fondazione Casa dei Risparmi di Alessandria questa mattina ha ospitato la presentazione di un evento molto significativo. Gli asili notturni di Torino, cioè quello che io ho definito un colosso dell'assistenza agli ultimi, che ha sedi a Torino ma ha sedi secondari in tante parti della nazione, da Pinarolo, Biella, Sassari, Taranto, arriva anche ad Alessandria e questo è un motivo di grande orgoglio per tutto il territorio. Gli asili notturni ci hanno lanciato una sfida, hanno detto noi veniamo, possiamo cominciare garantendo mille prestazioni all'anno, cioè un numero veramente rilevante. Ora tocca a noi del territorio rispondere, rispondere sì e cercare di far sì che gli asili notturni abbiano la soddisfazione di vederci operosi nei loro confronti e soprattutto abbiano lo stimolo per migliorare ancora le prestazioni che verranno fornite sul territorio. Devo dire che la risposta del territorio è stata splendida. Questa mattina c'erano prima di tutto i volontari, che sono la parte più importante, c'era il rappresentante del Comune, della Regione e c'erano tante persone che avevano voglia di darsi da fare. Quindi un momento molto molto importante per far sì che le esigenze degli ultimi vengano soddisfatte, per far sì che le povertà emergenti in questo periodo e quelle che purtroppo ci sono sempre state, siano combattute in modo efficace nella città di Alessandri.